Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo in cui una ragazza e un ragazzo si ritrovano in un percorso che li porterà a confrontarsi con le proprie radici e a scoprire il vero significato dell'amore, una storia vincente, piena di colpi di scena e di una profonda riflessione sulla diversità culturale e sull'importanza dei valori familiari e personali. La trama del libro Eliana di Rossella Cannavacciolo, edito da Bublerri Edizioni, è la seguente. Eliana e Alessandro frequentano la stessa scuola, ma non potrebbero essere più diversi. Eliana è nata da mamma eritrea e papà italiano, in una famiglia modesta ma molto unita e ricca di valori. Non si sono mai piegati di fronte alle difficoltà della vita, lavorando e supportandosi a vicenda. Alessandro è figlio di buona famiglia, cresciuto nel benessere, nell'apparenza, in compagnia di gente superficiale e piena di pregiudizi, dove il razzismo è vissuto come una condizione normale. Lo scontro è inevitabile, duro, traumatico e cambia la vita di entrambi. Ma il tempo passa in fretta ed Eliana e Alessandro sono cresciuti, più simili di quanto avrebbero immaginato. Eliana si è allontanata dalla famiglia, è diventata giornalista di cronaca nera nella caotica Londra, trovando una casa e una sua dimensione accandenne. Anche Alessandro si è distaccato dai suoi parenti, dal mondo a cui apparteneva, ha vissuto da solo, arraggiandosi con lavoretti, fino a diventare medico di pronto soccorso, in prima linea per salvare vite. Eliana torna in Italia per lavoro, ha bisogno di una fonte, di una buona fonte, per un'inchiesta che coinvolge più paesi. Alberto, giornalista e suo amico d'infanzia, ha quello che fa per lei, un medico di pronto soccorso, un vero idealista, ma quando lei incontra al suo sguardo azzurro, ripiomba di colpo nel passato, non ha mai dimenticato quegli occhi, mai. Eliana e Alessandro iniziano a muoversi così in un equilibrio instabile, fatto di tensione emotiva, attrazione nascosta, timori e nuovi sentimenti, circondati da personaggi che, involontariamente, non fanno che complicare l'intreccio delle loro due vite, equivoci, battibecchi, voglia di superare il dolore passato, di scoprire e scoprirsi, sono gli ingredienti del loro rapporto, professionale, forse se non fosse così vero. Grazie per l'attenzione, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami cortesemente un messaggio. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale. Un caro saluto!